Ciao ragazzi bentornati al nuovo appuntamento con 3 minuti di milan per chi è nuovo sul mio canale ringrazio di esserci passato di aver aperto questo video e soprattutto vi chiedo di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati su tutta quella che è l'attualità milan le novità di mercato e tanto quanto allora torniamo a quello che è il focus di questo video quello che avete visto nella thumbnail nell'immagine di apertura il video è dedicato all'intreccio milan torino che non è la gara di stasera complicata ne abbiamo parlato più volte sia su replay che in altri video precedenti ma in quello che è l'intreccio appunto di mercato tra milan torino chiamato belotti belotti e non solo il giocatore che avete visto nella thumbnail è tommaso pobega tommaso pobega che è in prestito secco dai rossoneri mandato in quel di torino per avere minutaggio per farsi le ossa per far quel salto di qualità che permetta lui di prendere possesso nei prossimi anni del centrocampo del milan ovviamente i tifosi milanisti si sono divisi tra chi è fan di belotti quindi vorrebbe belotti al milan a prescindere quindi l'opzione scambio con pobega già a gennaio ha letta qualche tifoso rossonero altri invece e sono in tanti che stimano tommaso pobega si sono rivoltati e si sono detti no assolutamente pobega non si tocca va bene belotti a parametro zero a fine anno ma gennaio nessuna trattativa nessun diciamo coinvolgimento di pobega nella vicenda belotti milan allora tornando facendo un salto indietro a belotti milan ho fatto un video dedicato lo potete trovare qui e questo video parla proprio di quelli che sono stati gli step che hanno visto belotti avvicinato dal milan già è tempo di mirabelli e fassone salvo poi come sapete storia cairo aver rifiutato un'offerta importante avendo chiesto i 100 milioni mi viene da ridere solo a pensare a quella cifra grazie a dio nessuno ci ha boccato dopodiché è chiaro che adesso il milan con il giocatore a 27 anni con il giocatore in scadenza a giugno non ha nessuna intenzione di spendere dei soldi per il giocatore anche perché poi il milan ha questa idea di valutare le situazioni di ibrahimovic per sostituire fare un entra esci con un giocatore altrettanto solido in questo caso belotti 27 anni grande esperienza nel campionato italiano molti dicono non segna da una cifra però continua ad avere una media di 15 gol la stagione ed è importante per una squadra come il milan avere una punta che faccia gol tornando al discorso pobega pobega ha detto no perché ho intitolato così il video di quest'oggi questo video qua è perché pobega ha fatto sapere al suo procuratore di non aver nessuna intenzione di non aver nessunissima intenzione di considerare una permanenza a torino con nessuna formula si è parlato anche di un riscatto e contro riscatto quindi una trasformazione del prestito secco corso in corso adesso ma è tutto ancora fumo fumo la cosa importante è che il giocatore ha detto voglio prendermi il milan sulle spalle ovvero è un virgolettato che ho inventato io ma il suo no deciso al suo procuratore è proprio figlio di questa volontà lui sa lui è milanista doc sa che può prendere in mano il centrocampo del milan lo vuole prendere in mano dalla prossima stagione vuole considerare essere considerato un perno e presto diventare una colonna di questo milan e con questa determinazione ha detto al suo procuratore no al torino non resto gioco lavoro farò il professionista fino all'ultimo in questa stagione darò tutto come sta dando con altre prestazioni ma voglio tornare al milan grazie mille grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie.